Buongiorno, mi chiamo Barbara Penolazzi e sono qui per darvi il benvenuto a questa iniziativa di Porta Aperte e per presentarvi il corso di laurea in Scienze Tecniche Psicologiche di cui sono coordinatrice ma anche docente per l'insegnamento di Psicologia Clinica. Vi darò innanzitutto un po' di informazioni sulla nostra disciplina e sul corso di laurea e poi passerò la parola ad alcuni miei colleghi. Ognuno di loro parlerà di uno specifico ambito della nostra disciplina, farà riferimento agli insegnamenti che sono presenti nell'offerta formativa del nostro corso di laurea in quell'ambito e vi darà anche degli esempi delle relative linee di ricerca. Infine passeremo la parola ad alcuni dei nostri studenti ed ex studenti in quanto neolaureati che vi racconteranno la loro esperienza nei nostri corsi di laurea di ambito psicologico, quello triennale per l'appunto in Scienze Tecniche Psicologiche e quello magistrale in Psicologia. Cerchiamo innanzitutto di dare un inquadramento della nostra disciplina anche se occupandosi di tantissimi fenomeni risulta difficile dare una definizione esaustiva che renda conto di tutte le sfaccettature della psicologia. Dovendo però comunque dare una definizione molto generale potremmo dire che la psicologia è una disciplina che ha per oggetto la mente con i suoi processi di vario tipo, percettivo, cognitivo, affettivo, ma anche i comportamenti umani che scaturiscono le complesse interazioni tra questi processi. L'approccio che viene utilizzato nella nostra disciplina per comprendere i fenomeni psicologici è un approccio integrato di tipo biopsicosociale che integra le evidenze raccolte a vari livelli di indagine, dal livello di base relativo al substrato biologico dei processi di interesse, e qui faccio riferimento appunto come substrato biologico al sistema nervoso in generale e poi a tutto il corpo, fino al livello più alto, quello sociale in cui si considera il modo nel quale le relazioni umane di vario tipo possono influenzare i vari fenomeni psicologici. Quindi per questo il modello viene definito come, per l'appunto, biopsicosociale. che può fare lo psicologo dopo la laurea magistrale, che è il gradino successivo a quella triennale? Beh, può fare tantissime cose, anche molto diverse tra loro. Può fare valutazioni, valutazioni di facoltà e abilità di vario tipo, alcune delle quali valutazioni possono anche avere delle finalità di tipo diagnostico. Può fare attività di abilitazione e riabilitazione, per esempio di funzioni che possono essere compromesse a seguito di qualche patologia. Può fare attività di sostegno e supporto psicologico rivolta al singolo, al gruppo, agli organismi sociali, alla comunità. E ancora lo psicologo può fare interventi di prevenzione del disagio psicologico, di promozione del benessere, interventi di formazione, interventi di consulenza e tantissime altre attività. Non ultima quella di sperimentazione di ricerca in tutti gli ambiti della disciplina. Quello che non può fare però è esercitare la psicoterapia, perché questa è subordinata ad uno specifico percorso formativo post lauream, di cui vi parlerò a breve. Andiamo per l'appunto a vedere più in dettaglio qual è il percorso formativo che dà la possibilità di svolgere qualcuna di queste attività, con riferimento alle possibilità che vengono offerte qui a Trieste. Il percorso, come vedete, inizia con la laurea triennale, dopo la quale ci sono fondamentalmente due possibilità. La prima che voi vedete nella figura a destra è quella di terminare gli studi dopo un tirocinio di sei mesi e il superamento dell'esame di Stato, rivolto a chi ha una laurea di questo tipo, iscriversi alla sezione B, che è quella junior dell'albo degli psicologi, e iniziare a svolgere qualcuna delle attività che ho descritto prima. Attenzione però che per i laureati alla triennale iscritti all'albo B, per esercitare queste attività c'è bisogno della supervisione di uno psicologo che si è iscritto alla sezione principale dell'albo, che è la sezione A. Come si arriva all'iscrizione dell'albo A? Attraverso la via che è scelta più frequentemente dai laureati alla triennale, che è la via che passa per la laurea magistrale. Qui a Trieste noi abbiamo per l'appunto, come vi dicevo, una laurea magistrale in psicologia che è caratterizzata dall'avere tre curricula, vale a dire tre percorsi specifici in cui si approfondiscono conoscenze e competenze in ambiti, in settori diversi della psicologia, in base agli interessi di ognuno. Un curriculum è quello neuropsicologico e di psicologia clinica, un altro curriculum è quello di psicologia cognitiva applicata e un altro curriculum ma ancora, è quello di psicologia sociale e dello sviluppo. Oltre ottenuta la laurea, dopo un anno di tirocinio, il superamento dell'esame di Stato, è quindi possibile iscriversi all'albo A e poter svolgere una o più attività di quelle che vi ho descritto in precedenza. Dopo la laurea magistrale, per chi è interessato a proseguire la sua formazione, ci sono altre due possibilità, principalmente altre due possibilità. La prima, che è quella che voi vedete in basso a destra, è il percorso formativo che prevede, dopo l'iscrizione all'albo A, una scuola di specializzazione universitaria o privata che abilita l'esercizio della psicoterapia, come vi dicevo. Qui a Trieste noi abbiamo una scuola di specializzazione universitaria in neuropsicologia che dà un doppio titolo, sia il titolo di specialista in neuropsicologia per l'appunto, che è il titolo di psicoterapeuta, questo in virtù del numero alto di insegnamenti che vengono dedicati durante il corso di specializzazione, proprio lo sviluppo di abilità e competenze finalizzate all'esercizio della psicoterapia. Una seconda possibilità dopo la laurea magistrale, per chi avesse particolari interessi nell'ambito della ricerca nei vari campi della psicologia, è quello di intraprendere la via del dottorato di ricerca e qui a Trieste abbiamo un percorso di questo tipo con il dottorato triennale in neuroscienze e scienze cognitive. Oltre a queste due possibilità ci sono anche dei percorsi formativi relativamente meno impegnativi, generalmente di un anno, che sono quelli offerti dai master di primo e di secondo livello a cui si può accedere rispettivamente con la laurea triennale e la laurea magistrale. Come vi dicevo sono generalmente meno impegnativi perché appunto di un anno e approfondiscono delle competenze in ambiti specifici della disciplina. Partendo dal primo livello di questo percorso, quindi dalla laurea triennale, come è possibile accedervi? Beh ci sono 200 posti a disposizione ogni anno, tuttavia avendo sempre molte più domande rispetto a questi 200 posti, per accedere al corso di laurea occorre sostenere una prova di ammissione, prova che prevede di rispondere a vari quesiti e scelta multipla relativi ai vari ambiti, ad esempio il ragionamento, la comprensione del testo, la biologia, la matematica, l'inglese, l'inglese. La graduatoria degli ammessi al primo anno viene poi stilata proprio sulla base dell'esito di questa prova. Finora, cioè fino all'anno accademico in corso, il test di ammissione si svolgeva all'incirca nella prima settimana o nella prima metà di settembre, mentre il bando per iscriversi alla prova usciva tra luglio ed agosto. Però siamo in una fase di transizione per cui è possibile che le modalità e i tempi della prova di ammissione per l'anno accademico 2022 e 2023 subiscono qualche cambiamento. Quindi per non perdere informazioni indispensabili relative all'iscrizione vi consiglio di monitorare con una certa regolarità la sezione del nostro sito in cui compaiono le informazioni relative alle iscrizioni stesse. Dove potete trovare informazioni più dettagliate sul nostro CDL? Beh, potete innanzitutto visitare il sito di Universitaly, che è un sito che dà informazioni su tutti i corsi di laurea di tutti gli Atenei d'Italia e quindi anche sul nostro, ma per avere delle informazioni più dettagliate e specifiche sul nostro corso di laurea, potete visitare il nostro sito del corso di laurea stesso, al quale si accede partendo dal sito del dipartimento cui il corso di laurea afferisce, vale a dire il Dipartimento di Scienze della Vita, che ha come acronimo DSV. Vedete qui l'indirizzo, una volta arrivati appunto al sito del dipartimento, ci si muove attraverso le sezioni della didattica, dei corsi di laurea e delle lauree triennali. Questo è quello che si vede arrivati a questo punto e va selezionato, come vedete, il terzo corso di laurea, che è quello che rimanda al nostro sito, dove è possibile trovare informazioni dettagliate, come vi ho detto, su vari aspetti del corso di laurea stesso, che ora ho trascurato per ragioni di tempo. Tra queste informazioni, alcune che possono essere particolarmente rilevanti e interessanti per voi, sono quelle relative ai piani di studio del corso di laurea, con i vari insegnamenti e relativi programmi che sono previsti per ogni annualità. Ora non entro nel merito di questo, proprio per il fatto che, come vi ho anticipato, ve ne parleranno a breve i miei colleghi, a cui io lascio la parola. Pari insegnamenti del corso di studi in scienze tecniche e psicologiche affrontano il tema dei processi cognitivi. Ma che cosa sono i processi cognitivi? Sono quei processi coinvolti nella selezione e nell'elaborazione delle informazioni che noi impieghiamo nello svolgere i compiti di ogni giorno. I processi cognitivi sono implicati nell'acquisizione, nella rappresentazione e nell'utilizzo delle conoscenze, supportano il ragionamento, la risoluzione dei problemi e la decisione, sono essenziali per la conclusione e la produzione del linguaggio e vengono utilizzati nella programmazione e nell'esecuzione delle azioni. Gli insegnamenti che trattano temi legati ai processi cognitivi nei corsi di studio del corso di laurea in scienze tecniche e psicologiche sono l'insegnamento di introduzione alla psicologia, l'insegnamento di percezione, l'insegnamento di memoria e controllo cognitivo, l'insegnamento di pensiero, l'insegnamento di linguaggio e l'insegnamento di introduzione alla psicologia dello sport. Ma perché è importante studiare i processi cognitivi? In primo luogo perché comprendere i processi cognitivi ci aiuta a comprendere il funzionamento mentale che è l'oggetto principale di studio della psicologia. In secondo luogo perché la conoscenza dei processi cognitivi è importante in numerose applicazioni pratiche della psicologia e vedremo alcuni esempi tra un momento. In terzo luogo perché conoscere i processi cognitivi è essenziale per costruire dei test attraverso i quali valutare le abilità cognitive e questa valutazione avviene ogni giorno nelle strutture pubbliche e da parte di psicologi professionisti nell'attività privata. Infine conoscere i processi cognitivi è importante perché in questo modo è possibile strutturare dei programmi di riabilitazione delle funzioni cognitive rivolti a persone che hanno subito lesioni cerebrali o che sono pazienti con particolari patologie neurologiche. Vediamo ora alcune applicazioni pratiche della ricerca sui processi cognitivi ricordando che sono soltanto alcuni esempi e che potremmo farne altri. A che cosa serve la conoscenza dei processi cognitivi? In pratica serve a migliorare la memoria e l'attenzione nella vita quotidiana, serve a ridurre gli errori nella testimonianza oculare e più in generale in ambito giudiziario, serve a migliorare le capacità di apprendimento degli studenti e i materiali che si utilizzano per l'apprendimento, serve a progettare interfacce che siano facili e piacevoli da usare per le applicazioni informatiche, serve a progettare oggetti a misura di persona quindi anche in questo caso facili e piacevoli da usare oltre che utili, serve a comunicare meglio cioè in modo più accurato ed efficace, serve ad evitare di commettere errori sistematici quando ragioniamo e decidiamo. Infine serve a migliorare la prestazione in attività sportiva e il benessere psicologico delle persone. Nell'ambito dell'Università di Trieste ci sono dei laboratori di ricerca in psicologia che si occupano dei processi cognitivi e affrontano vari temi legati appunto ai processi cognitivi accrescendo quindi la conoscenza in proposito. È importante ricordare che gli studenti iscritti ai corsi di psicologia dell'Università di Trieste hanno l'opportunità di svolgere dei periodi di tirocinio all'interno di questi laboratori integrando quindi la loro preparazione grazie alla partecipazione ai progetti di ricerca in corsi di svolgimento presso quei laboratori. Mi chiamo Paolo Bernardis e mi occupo di neuropsicologia e neuroscienze cognitive. La neuropsicologia e la psicologia clinica si occupano di investigare la mente e le sue basi neurali secondo la prospettiva dello studio di individui che hanno dei disturbi della mente. Più precisamente la neuropsicologia studia la mente e il comportamento degli individui che presentano delle lesioni organiche del sistema nervoso centrale ad esempio quelle prodotte da un ictus o da una malattia neurodegenerativa e che di conseguenza in conseguenza di ciò riportano dei deficit cognitivi. Invece la psicologia clinica studia il funzionamento psicologico atipico ovvero quel funzionamento che si discosta marcatamente dal funzionamento generale come nel caso ma non solo della psicopatologia. Oltre a ciò questa disciplina si occupa dello sviluppo di specifiche abilità che permettono allo psicologo di aiutare le persone che si rivolgono al professionista come la capacità di condurre un colloquio con finalità cliniche o la valutazione del funzionamento di una specifica persona come nella diagnosi psicologica. All'interno del corso di laurea in scienze tecniche psicologiche sono attualmente presenti diversi insegnamenti per un totale di 36 crediti formativi universitari tra i quali il corso di neuropsicologia modulo A e modulo B, un corso integrato che analizza tutti i possibili deficit dei processi cognitivi, il corso di psicologia clinica che fornisce le basi teoriche del funzionamento psicopatologico e del suo trattamento, un corso di counseling psicologico che aiuta gli studenti a sviluppare le capacità cliniche di base. Inoltre sono presenti anche due insegnamenti, psicologia dinamica e un corso avanzato, che danno un quadro del funzionamento mentale e del trattamento psicologico dal punto di vista psicoanalitico. Perché è importante la neuropsicologia e la psicologia clinica? Per diversi motivi, motivi rilevanti. Il primo è la comprensione delle basi neurofisiologiche del funzionamento mentale, per la comprensione del funzionamento mentale a tipo di psicopatologia in una prospettiva che integri il livello neuropsicologico e quello psicologico e per la costruzione di abilità di intervento per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione psicologica ed anche neuropsicologica. Se vogliamo fare qualche esempio di applicazioni pratiche di queste due discipline, potremmo dire che le competenze acquisite nell'ambito della neuropsicologia ci consentono di fare valutazione dell'efficienza cognitiva, ad esempio per una valutazione di idoneità alla guida, diagnosi neuropsicologica, riabilitazione di pazienti e dei loro deficit cognitivi ed infine anche il loro reinserimento sociale, domiciliale, lavorativo e o scolastico. Mentre per quel che riguarda le applicazioni della psicologia clinica si mira una comprensione delle unicità della singola persona che si rivolge a noi, evitando quello che viene chiamato l'etichettamento diagnosico. Lo studio della psicologia clinica aiuta a sviluppare alcune delle abilità fondamentali per lo psicologo clinico, come quella di condurre un colloquio psicologico, visto sia come momento di conoscenza ma anche di intervento attivo. Infine abbiamo diversi docenti e laboratori che in questi due ambiti di ricerca fanno ricerca sperimentale. Nell'ambito percezione, attenzione, azione c'è il laboratorio del sottoscritto, nell'ambito ipocampo, memoria e coscienza temporale c'è il laboratorio del professor Gianfranco Valla Barba, nell'ambito psicologia clinica abbiamo il laboratorio della professoressa Barbara Penolazzi e infine nell'ambito psicopatologia clinica sperimentale c'è il laboratorio del professor Igor Marchetti. Per maggiori informazioni potete consultare il sito web che vedete qui riportato. Buongiorno, sono Cinzia Chiandetti e sono una docente del corso di laurea in scienze tecniche psicologiche. Le neuroscienze si occupano dello studio del sistema nervoso e del cervello, si avvalgono di tecnologie e strumenti all'avanguardia che ci permettono in un certo senso di vedere come lavora il cervello. I livelli di analisi chiaramente del sistema nervoso variano da quello particolare del comportamento delle molecole, delle cellule a quello generale, di come l'attività del cervello crea la mente. Le neuroscienze si studiano quindi in un corso di laurea di psicologia perché ci consentono di comprendere le basi biologiche dei processi cognitivi, ovvero i meccanismi del funzionamento di processi come percezione, attenzione, memoria e ci portano a comprendere come si generino le nostre esperienze mentali, il nostro comportamento a partire proprio da un macchinario biologico, il nostro cervello, il nostro corpo, comprese poi quelle che sono le disfunzioni che danno origine alle diverse patologie. Nell'ambito delle neuroscienze durante il corso di laurea in scienze tecniche psicologiche troverete biologia genetica al primo anno, neurofisiologia al secondo anno e introduzione alle neuroscienze cognitive al terzo anno. Il percorso che può continuare nella laurea magistrale in psicologia, come avete sentito all'inizio della presentazione, include anche il dottorato in neuroscienze e scienze cognitive, grazie al quale è possibile proseguire gli studi e la ricerca nelle tematiche che vi ho descritto. È possibile però entrare in contatto con la ricerca già con le attività di tirocino, per esempio nel laboratorio di neurofisiologia e allo studio una patologia rara del neurosviluppo, si manifesta in età pediatrica e i sintomi principali sono la paraplegia spastica e il ritardo mentale. Attraverso esperimenti in vitro e in vivo si vuole comprendere quali sono i meccanismi molecolari e cellulari che provocano l'insorgere di questa patologia, al fine di identificare i possibili target terapeutici per progettare poi una cura per la patologia. Nel laboratorio di elettrofisiologia, per quanto riguarda il controllo motorio in individui con e senza deficit cognitivi, la ricerca indaga come il sistema cognitivo pianifichi e controlli il movimento. Ad esempio nella malattia di Parkinson, che è una malattia degenerativa che porta a una progressiva perdita della capacità di muoversi e a declino cognitivo, si studia come sia possibile alleviare i disturbi motori con protocolli riabilitativi basati sull'utilizzo di strategie cognitive. Nel laboratorio di condizione animale si compara il comportamento di esseri umani, bambini e adulti e altri animali come i polcini, per studiare l'ipotesi ad esempio che una spiccata sensibilità ai segnali ambientali legati all'uso e al consumo di sostanze d'abuso, alcol ma anche gioco o cibo, possa rappresentare un discrimine tra chi riesce a fare un uso ricreativo delle stesse e chi invece svilupperà una dipendenza caratterizzata da ricerca compulsiva e ricadute, cercando quindi di capire grazie al modello di animale quali caratteristiche sono predisposte e quali invece sono modificabili dall'apprendimento. Mi chiamo Andrea Carnaghi e mi occupo di psicologia sociale e di comunità. La psicologia sociale di comunità si occupa dell'interazione tra gli individui e l'ambiente sociale, in particolar modo di come gli individui sviluppano delle conoscenze riguardo a se stessi e agli altri e come queste conoscenze influenzano l'interazione che noi abbiamo appunto nell'ambito sociale. La psicologia sociale di comunità utilizza sia metodi quantitativi che metodi qualitativi, sebbene qua a 3S noi prediligiamo metodi di tipo quantitativo e in particolar modo metodi sperimentali. Svolgiamo sia ricerca di base, sia ricerca applicata, quindi svolgiamo sia ricerca di laboratorio e i risultati della ricerca di laboratorio solitamente informano poi i processi di progettazione, programmi per esempio di prevenzione negli ambiti sociali di comunità. La psicologia sociale di comunità prevede diversi corsi che sono appunto la psicologia sociale primo anno, la psicologia di comunità secondo anno e poi la psicologia dei gruppi e della lavora magistrale. Attraverso questi corsi è possibile apprendere dei modelli teorici del comportamento individuale e collettivo e la loro applicazione poi nell'ambito di comunità. Per esempio acquisirai conoscenze specifiche e competenze metodologiche per lo studio dei processi di discriminazione. Analizzeremo infatti come gli stereotipi che possediamo, quindi le credenze che noi possediamo rispetto agli altri gruppi, influenzano sia processi di base quali la memoria e l'attenzione nei confronti di informazioni riguardanti il nostro gruppo e il gruppo a cui non apparteniamo, ma anche come influenzano le risposte affettive e comportamenti di discriminazione nei confronti dei membri di gruppi, per esempio di cultura diversa della nostra. Acquisirai anche metodi e strumenti per la valutazione delle problematiche di comunità e svilupperai capacità di progettare programmi di prevenzione e di intervento. Per esempio verranno illustrati i metodi di analisi del cyberbullismo e del bullismo da cui sono stati poi sviluppati interventi di contrasto a tali fenomeno all'interno delle scuole. Per esempio prenderemo in esame l'intervento di peer education in cui i protagonisti sono appunto i pari o di mentoring in cui le persone che sono implicate non hanno necessariamente le stesse conoscenze e lo stesso status, ma prenderemo anche in considerazione quali fattori permettono di cambiare i nostri stereotipi e promuovono rapporti più armoniosi tra individui appartenenti a culture diverse. La ricerca in psicologia sociale e comunità del nostro laboratorio ha infatti come diciamo filone di ricerca sia lo studio degli stereotipi del pregiudizio della discriminazione e di quali sono poi le strategie che possono ridurre tali forme di bias di interazione diciamo negativa tra individui appartenenti a gruppi differenti. Analizziamo anche bullismo e cyberbullismo nelle scuole e progettiamo programmi di intervento finalizzato del contrasto di tali fenomeni e ci occupiamo anche di gender studies come per esempio l'oggettivazione la sessualizzazione delle donne in ambito pubblicitario e non solo ma anche della rappresentazione della discriminazione di alcuni degli individui che appartengono a minoranze di tipo sessuale o minoranze legate appunto al genere identitari minoritari. Se volete più informazioni trovate il link qui sotto. Buongiorno a tutti mi chiamo Sandra Pelizzoni e insieme alla collega Maria Chiara Passo Lunghi ci occupiamo di una specifica branca della psicologia che si chiama psicologia dello sviluppo e dell'educazione che è il settore scientifico disciplinare che studia l'evoluzione e lo sviluppo del comportamento umano dalla nascita alla morte rispetto a funzioni rilevanti quali la memoria, il linguaggio della comunicazione, lo sviluppo emotivo, lo sviluppo tipico oppure lo sviluppo atipico. Durante il percorso di laurea in scienze tecniche e psicologiche vengono erogati due insegnamenti di psicologia dello sviluppo. Psicologia dello sviluppo modulo A che riguarda aspetti di memoria, attenzione, abilità inibitorie, apprendimento e un modulo di psicologia dello sviluppo che viene chiamato B e che riguarda soprattutto temi quali lo sviluppo emotivo linguistico, l'attaccamento e la genitorialità. È importante studiare questo settore scientifico disciplinare perché ci aiuta nella comprensione del funzionamento di un aspetto o di più aspetti dell'essere umano in senso longitudinale e quindi nell'arco della sua vita. È base per la valutazione dei processi di acquisizione delle abilità sia nello sviluppo tipico che nello sviluppo atipico, quindi nell'area della disabilità e guida la riabilitazione di funzioni cognitive ed emotive. È importante conoscere questa disciplina soprattutto per chi vuole lavorare all'interno della scuola, per chi è interessato al lavoro con i bambini e alle famiglie proponendo loro programmi di intervento specifici o a chi è interessato a lavorare su programmi riabilitativi e soprattutto riuscendo a misurare gli effetti di questi programmi o di questi training. L'Università degli Studi di Trieste ospita un laboratorio di psicologia dello sviluppo e dell'educazione che si chiama Evolutivamente Lab, all'interno del quale lavorano molte persone, tra cui dottorandi, assegnisti, laureandi triennali e magistrali e grazie al lavoro dei quali riusciamo a mantenere attive molte linee di ricerca sia relativamente allo sviluppo tipico, in particolare all'apprendimento matematico. Valutiamo in modo specifico quali sono i fattori che facilitano o al contrario rendono complesso questo tipo di apprendimento. Abbiamo poi dei programmi attivi rispetto allo sviluppo atipico e alla disabilità, soprattutto in riferimento alla sindrome di Down, ai bambini con discalculia e ai bambini con percorsi chirurgici complessi e da ultimo ma non per importanza abbiamo dei programmi di cooperazione internazionale che riguardano la programmazione e la valutazione di attività in favore dell'infanzia in contesti socioculturalmente svantaggiati. Vi ringrazio per l'attenzione. Cari studenti buongiorno sono Michele Grassi assieme alla collega Lisa Di Blas insegniamo i corsi di metodologia e statistica psicometrica. Comprendo la sorpresa rispetto ad un corso di statistica in un percorso di laurea triennale in psicologia e quasi vedo materializzarsi un grosso punto interrogativo sopra le vostre teste. La prima risposta che mi viene in mente è di tipo storico, infatti la statistica rappresenta una disciplina costitutiva della psicologia scientifica, anche alla luce del fatto che la statistica moderna è stata in parte frutto del fondamentale lavoro di psicologi come Galton, Spearman, Stevens e Thurston, solo per citarne alcuni. Il suo ruolo formativo nei corsi di laurea in psicologia è fondamentale in quanto lo psicologo si avvale di metodi statistici, direttamente se fa ricerca o indirettamente se applica i risultati che ne conseguono, interpretando quindi i risultati di tali ricerche. In questa prospettiva il corso di basi statistiche per la psicologia, offerto al secondo anno della laurea triennale, offre delle tracce per utilizzare in modo appropriato i metodi di base per l'analisi dei dati in psicologia, metodi utili al fine di organizzare i dati, gli psicologi devono saper presentare i dati in modo facile da comprendere, anche mediante strumenti grafici di rappresentazione delle informazioni, devono saper descrivere un fenomeno psicologico e i suoi correlati, cioè i fenomeni con cui tende a presentarsi assieme e devono saper trarre delle inferenze statistiche. La psicometria rappresenta quell'ambito di studi e lettivo che fornisce strumenti per dare forma ed evidenza alle nostre idee o ipotesi. Infine al terzo anno troverete un corso denominato tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati, questo corso sarà tenuto dalla mia collega, la professoressa Lisa Di Blas, e impartirà nozioni di livello più avanzato. Queste nozioni saranno utili al fine di definire un profilo cognitivo, affettivo e comportamentale di un individuo, a prevedere l'andamento di una variabile psicologica, ad esempio un comportamento, un'emozione, anche nel tempo, a partire da una serie di informazioni disponibili, individuando così fattori protettivi e di rischio rispetto all'andamento della variabile stessa. Questi metodi avanzati saranno utili anche al fine di spiegare fenomeni di interesse psicologico in termini causali. Le analisi statistiche introdotte si baseranno sulla correlazione tra variabili e includono l'analisi della regressione lineare e tecniche di riduzione dei dati. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con le altre presentazioni. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono una studentessa di psicologia magistrale presso l'Università di Trieste, sono iscritta al curriculum di neuropsicologia e psicologia clinica, ma sto svolgendo una tesi in ambito cognitivo. Durante la mia esperienza universitaria ho avuto l'opportunità lavorativa di svolgere delle ore di tutorato all'interno della segreteria didattica. Questo mi ha permesso di conoscere la realtà organizzativa che sta dietro il mio corso di studi e ho svolto la funzione di tramite tra gli studenti e l'Università di Trieste. Credo che sia stata un'esperienza profondamente arricchente sia dal punto di vista organizzativo o professionale sia dal punto di vista umano. Buongiorno a tutti, sono Irene Florian e presso l'Università dell'Iso di Trieste ho svolto sia la laurea triennale che la laurea magistrale in psicologia, scegliendo in particolare per quest'ultima il curriculum neuropsicologia e psicologia clinica. Sono una delle molte persone che si sono laureate durante il lockdown, un periodo caratterizzato da forte incertezza e paura per tutti e da particolare spesamento per noi laureandi perché non sapevamo se saremmo riusciti a laurearci entro i termini stabiliti. L'Università di Trieste ha prontamente risposto a queste nostre paure predisponendo delle linee guida chiare che ci hanno consentito di laurearci in modalità telematica con grande supporto da parte dei nostri docenti. La mia tesi verteva sulla malattia d'Alzheimer e in particolare sugli strumenti diagnostici impiegati, quindi da un lato i biomarcatori, strumenti prettamente medici, e dall'altro i test neuropsicologici, uno dei principali strumenti del neuropsicologo. Ciò consente quindi di comprendere come la psicologia non sia solo quella che viene raccontata attraverso film e telefilm riguardanti quindi prevalentemente le psicoterapie, ma qualcosa di molto più complesso che si interfaccia con molte altre discipline quali ad esempio la medicina e che ha molto a che fare anche con la ricerca. Attualmente sto svolgendo il mio tirocinio post laurea presso l'Università degli Studi di Trieste e ciò mi sta consentendo da un lato di approfondire gli studi avviati col lavoro di tesi e dall'altro di entrare in contatto con altri progetti che si occupano di salute e benessere dell'individuo, toccando temi come l'intelligenza emotiva nei bambini. Ciao a tutti, io sono Thomas, sono uno psicoterapeuta e specialista in neuropsicologia. Ho svolto tutto il mio percorso di studi presso l'Università degli Studi di Trieste e spero che possa essere un intervento arricchente per voi studenti, anche per spiegarvi un pochino che cosa potrà essere il post laurea. Come dicevo io ho svolto la scuola di specializzazione in psicoterapia e in neuropsicologia ed è stata un'esperienza assolutamente arricchente sia dal punto di vista umano, infatti ho conosciuto un sacco di colleghi che prima di essere colleghi sono prima di tutto amici con cui ho condiviso momenti anche abbastanza complicati e sicuramente un percorso anche arricchente dal punto di vista lavorativo perché grazie al suo approccio a 360 gradi mi permette di osservare e di comprendere i pazienti da diversi punti di vista. Grazie sempre alla scuola di specializzazione ho avuto modo di svolgere due seminari su quello che attualmente sto svolgendo dal punto di vista lavorativo, quindi l'età evolutiva. Buongiorno a tutti, io sono Giulio, sono uno studente di dottorato del corso di neuroscienze e scienze cognitive presso l'Università degli Studi di Trieste, dove in passato ho anche fatto la laurea triennale. Come argomento di studio mi occupo della memoria prospettica, ovvero della memoria per gli eventi futuri, come per esempio ricordarsi di fare una chiamata alle 4 di pomeriggio. Come attività di ricerca conduco esperimenti di psicologia in laboratorio in cui i partecipanti svolgono dei compiti di memoria prospettica al computer e altri test, sia al computer che carta e matita o questionari, al fine di misurare delle variabili di interesse psicologico, come per esempio l'attenzione, la memoria a breve termine oppure la capacità di percepire il passaggio dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.